Buongiorno, sono un'operatrice di Bike Show, inviata per la prima volta al Giro di Toscana e in generale nel mondo del ciclismo. Come prima esperienza penso che sia stato ottimo iniziare con il Giro di Toscana perché è veramente un ambiente bellissimo, pieno di entusiasmo, collaborazione e per niente teso o troppo competitivo. Mi sono trovata bene, all'inizio ho avuto bisogno di qualche indicazione per sapere dove puntare l'attenzione però grazie anche alla giornalista con cui sono scesa, che è un ex ciclista, mi ha dato indicazioni giuste e so bene dove puntare l'attenzione. Sono molto felice e spero che non finisca qua.